Fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti il giorno dopo questo big match o quello che doveva essere un big match si pensava tutti noi si pensava che la Lazio arrivasse più vicino a questo scontro diretto, varie vicissitudini, post pandemia ha portato la Lazio con la panchina corta ad arrivare distantissima dalla Juve che aveva già tre quarti di scudetto in mano diciamocela tutta non è stato uno scontro diciamo a 1 o 2 punti di distacco però era sempre importante vincerlo e l'abbiamo vinto con i soliti patemi finali come vi ho detto ieri una partita una partita che sembrava sembrava tranquillamente in cassaforte il risultato è sempre alla fine facciamo i soliti errori del cazzo stavolta è stato Bonucci altre volte è stato un altro insomma Bonucci anche recidivo diciamo però è inspiegabile poi abbiamo temuto tutti infatti questo per quel per un famoso blackout per un altro blackout abbiamo temuto tutti infatti come è capitato anche su quel gol del Torino vi ricordate quei 20 minuti di ambascio questa squadra manca di carattere perché basta un gol non andiamo a fare il 3 a 1 ma ci cacchiamo sotto e rischiamo il 2 a 2 codice fiscale bravissimo informissimo in questo periodo però è pazzia questa squadra manca di personalità è evidente e chi gliela deve mettere la personalità i giocatori di carisma uno sicuramente l'allenatore dovrebbe mettere un pochino un pochino di suo in questa squadra ogni squadra caratterialmente figlia del proprio allenatore che non può allenare solo la parte tattica e ripeto lo ripeterò centinaia di volte a me piacciono le idee di sarri le idee di calcio sono le mie stesse idee ma non basta solo questo come dice il mio amico luke il canale luke lo conoscete il canale di luke 65 vero come dice lui sarri è inadeguato semplicemente inadeguato ragazzi inadeguato non esiste aggettivo migliore per il posto che occupa non bastano le idee di calcio ci deve deve infondere grinta rispetto dai tuoi giocatori deve avere rispetto grinta cari non ha questo carino non ha carisma non ha grinta non ha non sproloquia bene lo sappiamo né con i giornalisti né un qualsiasi tipo di intervista e sicuramente nello spogliatoio sicuramente ha grossissimi problemi nell'interagire con gli altri sia con la stampa sia con i propri giocatori che secondo me non lo amano in gran parte non lo amano ripeto delle idee che mi sono sempre piaciute mi piace quel tipo di calcio il baricentro alto i passaggi veloci avere sempre il controllo della palla ma non basta solo questo a lui ho sempre imputato questa mancanza di di grinta che non infonde alla squadra non si spiega neanche lui i famosi blackout non si spiega neanche lui e che li devo sapere io perché li fai blackout la juve questi blackout perché spegne la luce la juve per 20 30 minuti se non lo sa l'allenatore vuol dire che non ha il po il pozzo della situazione e ragazzi non mi piace questo non mi piace il modo in cui si presenta sicuramente ma io vi giuro avrei avrei anche perdonato il suo modo di spologuare i suoi strafalcioni il suo scaccolarsi la cicca me non me ne frega a un certo punto della tuta della maglia del presentarsi in giacca e cravatta per un gioco più spettacolare avrei fatto anche a meno di questo mi piace lo stile lo stile in conferenza stampa lo stile se rappresenti la juve devi reincarnare la figura della juve giusto la figura giacca e cravatta lo stile lui non ce l'ha ma sarei stato disposto anche a fregarmene di questo per un gioco più spettacolare e soprattutto un gioco che non cura la fase difensiva ripeto non la difesa la fase difensiva sto parlando di di movimenti di movimenti che chiaramente non vengono provati durante la settimana perché se provi 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 e riprovi qualsiasi caprone imparerebbe certi movimenti che evidentemente non provi io la vedo così però avete sentito nedved paradici lo hanno praticamente confermato per il prossimo anno c'è da credere ragazzi a questo punto noi tutti pensiamo i più intelligenti penso ci arrivino che la juventus non compirà la seconda volta l'errore di pagare due allenatori contemporaneamente specie in questo difficilissimo periodo post covid periodo economico difficile per tutti la juve non pagherà due allenatori e perciò scordatevi le dimissioni di sarri è difficile fino a giugno 2021 cambiare allenatori per questo contratto di sarri giusto perciò penso queste ipotesi pochettino queste ipotesi varie che si sono fatte insomma anche i bookmaker cominciano a quotare pochettino e zitane però sentendo paradici nedved non lo so sembra confermato ragazzi non lo so io non vorrei solo che la prossima stagione sia un'altra agonia agonia e ve lo ripeto per l'ennesima volta sarei disposto pure a farlo presentare con la tuta strappata o a petto nudo con la cicca in bocca alla fine mi dà fastidio ma accetterei anche questo purché dia un gioco continuo per 90 minuti e passe peraltro ieri ha sbagliato pure formazione l'abbiamo detto perché quel di bala quel di bala sontuoso che ha dipinto quei quadri meravigliosi non era neanche in squadra ragazzi non l'aveva messo in formazione ha messo duclas dall'inizio ragazzi non lo so peraltro lui continua sbaglia e non correggio i suoi sbagli non mi sembra neanche un genio nelle nel cambiare in corso nelle sostituzioni non lo so mi sbaglierò magari ha bisogno di questo apprendimento magari il prossimo anno però diciamo sempre magari 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 e campa cavallo chi di speranza campa disperato muore si dice dalle mie parti ragazzi non lo so per ora paradice nebbio te lo hanno confermato noi non possiamo che prenderne atto e sperare che questo gioco decolli quantomeno che finiscano sti famosi blackout perché un'altra stagione così non la reggo vincere lo possiamo dire abbiamo vinto manca pochissimo per lo sprint finale lo scudetto lo portiamo a casa senza tanta gloria l'hanno perso un po più gli altri che vinto noi però lo si è vinto l'importante questo l'abbiamo portato a casa però un'altra stagione così io non la reggo e ragazzi non la reggo non la reggo e qua sta anche a te agnelli a te con tutte le colpe che assarri qualche giocatorino soprattutto in mezzo al campo e mi raccomando pensaci agnelli pensaci mi raccomando fino alla fine ragazzi forza juve grazie a tutti grazie a tutti